Eeeh, ciao a tutti ragazzi, qui è Archeo Studio dei Pokemon E siamo qui su Minecraft Oggi vi vogliamo mostrare un po' di roba Questa è la nostra casa Un po' veccherella E' successo una cosa strana, si è sentito uno strano rumore Andiamo di sopra, eccoci Ok, praticamente non sappiamo cosa è successo, raga Ho già preparato un po' di cose per vedere, vediamo un po' No, andiamo a chiedere a Venom Di sicuro lui ne sa qualcosa Ah, chi non lo sa, Venom è il nostro caro amico Eccolo Ci siamo qua, lagga un pochino, non so il perché Ehi Venom, mi senti? Siamo Siamo qui Se potresti dare un indizio, cosa è successo di questo rumore Non lo so, non ha voglia di parlare, ma secondo me è venuto a nord E dal cielo sembra che stia anche per tramontare Eh, infatti, è strano Boh, c'è qualcosa qua che non patra Eh, ci tocca andare a dormire e pensare a domani Sì, infatti Non possiamo andare a giro di notte con gli zombie Mmh Arriviamo Ok, ci vediamo domani Ok, è giorno, raga Il rumore doveva provenire da... Da quella parte Teniamo la spada Non si sa mai cosa potrà succedere Chissà cosa è Chi è entrato nel nostro mondo senza permesso di spaccare il culo Che cazzo? Che cazzo? Raga, che cos'è? Fortuna che ho rubato le litre a mio fratello Ma che cazzo? Perché non hanno preso dei fuochi d'artificio? Ma che do di averci in alimentare? Ok Aia Che cazzo? Non lo so, ma adesso andiamo a controllare subito Eh, finisci nell'acqua, voilà Che diavolo è? Cos'è? Sembra un coniglio o qualcosa del genere Eh, proprio Cos'è? Ci siamo? Questo è uno zoccolone Ma che cazzo? Eh, è un po' troppo alto Eh, infatti Non si vede che cosa sia, raga Non si vede niente Mi sa che dovremo un po' raggiungerlo Sì È come il Monte Corona, raga Eh, certo Vediamo un po' Sì, prendi la potabilità del volo Eh, mi sa che dovremmo scalare un po' di alberi Sì, infatti Wow, wow, wow Vediamo un po' sui fuochi d'artificio Sì, ce li ho Per fortuna Non ho mai provato a volare con l'elitra Però potrebbe essere una nostra occasione Aio Così cadi No, non ci riesco Almeno i fuochi d'artificio No, vabbè Vabbè Ehi Ehi, tu Ehi, tu, tizio influtuante Chi sei? Forse siamo un po' troppo in basso Sì Arriviamo subiti Eh Siamo un po' in alto So che è un... Cosa sta schifo? Glielo chiediamo subito Sì, non so io Aia Chi sei? Tu e cosa ci fai nel nostro mondo? Eh Sono Archeos Il dio dei... Dei Pokémon Hai una voce rauca? Cos'è successo? Ho la... Ho la tosse Eeeh Ciao E tutto questo casino Solo per un po' di tosse? Eh Sono venuto qui Per chiedere il vostro aiuto Ascolta fammi capire Quindi sei venuto dal Monte Corona Per chiedere il nostro aiuto Voi dovete aiutarmi a guarire Massimo Distruggerò il vostro mondo Ah ok Eeeh E se invece vi aiuterete Vi darò un bel po' di diamanti Va bene Dovrete entrare dentro di me Ok Quindi Vi darò una pozione Ok Va bene Come vuole tu Come vuoi tu Pronti Prontissimi Anzi evitare il trasporterò dentro di me Vai Vai C'è del trasportato dove c'è un buco Infatti Ma vabbè Sembra che ci sia molto buio Quindi ci siamo procurati Una pozione di... Ma che? Raga Ci sono zombie Ma che? Via Vattene Vattene Sloggia Sloggia Vattene Ok c'è un bel po' di gente Quindi Via Sloggia Tutti Ma come ho fatto perché ossa mangiare tutta sta roba? Schifino Siete voi Madonna Cioè Dovremmo anche sboccare da una parte opposta Via Sloggia E basta E basta Eh sono venuti tutti su Maledi Aiuto Aia Via Via Vattene Via Vattene Vattene Ok Ecco che ne arriva un altro Ecco uno mi ha visto Porca troia Dai Levala E va via che nessuno ti vuole Aio Aio Oh no ne arriva un altro Fatti sotto Via 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 Vai via Uno c'era uno con l'armatura Sono con l'armatura d'oro ma le mamie Sì sarà impossibile A meno che non sia Herobrine Certo Herobrine con l'armatura d'oro Via I zaccagno I zocconi Cosa stanno facendo Hanno trovato il modo Vai Aiuto Che male però Fanno male Fanno male Assurdo Certo Certo I zocconi Da quando Eh ciao Sì Miuuu Che fatica Se ne sono andate qui Cosa si fa Ehi Buongiorno Buon porno Dai Dai tagliene 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 Dai tagliene tagliene Non gli fanno Un esploso Beh questi qui per so pensarsi anche dopo Ok Gli altri sono qui Direi di andare un po' di arco Sì Dagliene tagliene Ha una pessima mira Mai non hai una pessima mira Allora Da quanto vedo Vedo anche dei piccoletti Via Sloggiare Via un altro E un altro ancora Via Gatto fuori un altro Ok Aia Mark House però ha mangiato qualcosa di scaduto Sì La cane di zombie Avrà mangiato Il mito Sono sempre all'angolo Mori Hai preso Un blocco di erba E da quando c'è l'erba qui dentro nel corpo Fatto fuori Sì Sti zombie Stai vero di schizzo Era meglio forse se portavo un accendino No Avrei fatto un'infiammazione Sì Dopo qualcosa si sarebbe preso un'infiammazione Qua ce ne sono alcuni Ma che mila di merda c'ho Ma non c'hai una mila Eh Ho preso Ah no No Cosa Qua fortuna Cosa Maledizione C'è uno spinto di sotto Hanno droppato anche del ferro e dei pantaloni d'oro Mi sono dimenticato le mele d'oro Che mi picchi Chi è che mi picchia Non è che ho un effetto Oppure c'è proprio qualcuno No un piccoletto Eh mamma mia Ma quanto durerà questa battaglia Già Ok Siamo risaliti Era ora Oh mamma Qua c'è un sacco di gente Parcosa Ho paura che sprenderà la bronchite Quanta roba si è mangiato Aiuto Fortuna che gli schietti nel nether non fanno niente Eh infatti No 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 C'è troppa gente Togli Eltemi di mezzo Questi qua ci moriamo Eh infatti Hai pochissimi cuori infatti I zaccano I zattori Levatevi di mezzo Eh Niente siamo morti Ma che schifo Ma che roba è Siamo usciti dal sedere Eh Mamma mia Schifo Se fra che la casa ci abbia cagato sotto Già Alla fine Mi son portato L'accendino Non si potevano uccidere quelli maledetti zombie Occhio Aia Mi son dato fuoco da solo E niente Mi son dato fuoco da solo Ok ok Andiamo davanti a Archeo Se vediamo un po' Sì infatti Cioè Provo a uscire Da serena dove vamo Eh Era l'unico buco Sì Sì Proprio una schifezza Ragazzi Non fate Uscite Nella sedere di Archeo Che è una schifezza Allo Aiuto Sbagli Ci sono un po' Un po' Mi dovremmo un po' tagliare Ok Mi è venuta la tosse a me Adesso chiamiamo Archeo Archeo No da te Ahia Che cosa Eh Archeo Dovresti sentirti meglio Sì Ti sento molto meglio E' la ora E' infatti Grazie mille Grazie mille Avrete la ricompensa domani Ma Abbiamo 20 pezzi di carne di zombie Ed erano più di mille Mamma mia Vabbè Vi ringrazio un sacco Vi affiderò delle altre missioni Ok E quindi ragazzi Questo era il video qui Insieme a Archeo Siamo entrati dentro di lui E poi sono città A sedere Infatti E' stato tutto ironico Speriamo che il video vi sia piaciuto Scrivete nei commenti Quale Pokémon vi piacerebbe curare Visto che qui festeggiamo Fuochi d'artificio Mi faccio l'Archeo Festeggiamo un sacco E Vieni al prossimo video Ciao Ricordatevi di seguirmi su Instagram Mi chiamo Archeo Scrivei Pokémon In onore del signore Archeo Lasciate tanti like Sì E basta con questi fanchi Ci vediamo raga Ciao Ciao Bella